Sono Simona Bertini, cantante lirica e insegnante di canto. Io mi unisco molto volentieri a questo appello per la salvaguardia dei muffloni dell'isola del Giglio e francamente trovo inconcepibile e incomprensibile l'atteggiamento delle istituzioni in questa vicenda. Sappiamo che questi esemplari di muffloni sono stati introdotti 60-70 anni fa sull'isola e adesso si deve rimediare, tra virgolette, e alla loro gioia di vivere, sopprimendoli, perché sono aumentate di numero benché siano solo poche decine. Ecco io penso che potrebbero diventare una risorsa anziché un problema. Gli abitanti stessi dell'isola li amano, si sono proposte di ospitarli nei loro territori privati, si potrebbero creare dei percorsi di ecoturismo e quindi io spero che veramente la Toscana finalmente decida di dare un buon esempio, perché ultimamente non si sta comportando molto bene sinceramente nei confronti dell'ambiente. Sappiamo bene quali problematiche ci siano di inquinamento, di non rispetto delle alberature storiche, varie problematiche ecco e quindi spero veramente che ci sia un'inversione di tendenza e si capisca che la natura offre anche delle risorse e non solo dei problemi. E quindi le ragioni di interesse economico non devono prevalere sulla salvaguardia della vita e della bellezza che ci offre la natura.